E restiamo in argomento, ma da Termoli ci spostiamo ad Isernia. Temuta soppressione del reparto di neurofisiopatologia all'ospedale veneziale. Il problema approda in consiglio comunale a Palazzo San Francesco. Le considerazioni del sindaco Giacomo D'Apollonio in merito alla questione. Sempre più agitate le acque della sanità molisana dopo la chiusura del punto nascita del Santimotio di Termoli, ora si teme anche per la cessazione del reparto di neurofisiopatologia dell'ospedale veneziale di Isernia. La questione è approdata anche in consiglio comunale. Al lanciare l'allarme, il comitato insegnò al problema preoccupato per la tenuta del reparto stesso. In merito alla questione, l'amministrazione si è dichiarata pronta ad ogni forma di protesta al fine di scongiurare una possibile soppressione di un reparto importante per la cura dei cittadini e capace di trattare casi di ictus anche gravi con estrema precisione e professionalità. Ad esprimere dissenso e preoccupazione riguardo la questione è anche il primo cittadino Giacomo D'Apollonio che ha così espresso il suo giudizio riguardo a questo nuovo allarme. È un reparto molto molto importante per la nostra coltività, da sicurezza al nostro territorio. Insomma è uno dei punti fermi sui quali ovviamente noi prendiamo una posizione molto forte. Questa volta lo manderemo anche al Ministro della Sanità perché è bene che la nostra voce arrivi fino in alto. Lo fa il massimo consenso civico che rappresenta tutti i cittadini, però questo documento non escluderà poi eventualmente in caso di notizie che vadano in una direzione diversa altre iniziative anche forti. Dobbiamo far sentire la voce del territorio. Purtroppo quello che sta succedendo in Molise in questi ultimi tempi per quanto riguarda la sanità e non solo in questi ultimi tempi ma è stato un progredire continuo, anzi un regredire continuo dal punto di vista dell'offerta sanitaria e veramente insomma dobbiamo intervenire. Bisogna fermare questo stilicidio che è molto grave per il territorio. Purtroppo questo è il risultato di tanti anni passati. Purtroppo è la sommatoria di errori fatti nel passato, quando si è trattato di parlare di non avere deroghe, quando si parla di numeri è chiaro che noi siamo sempre perdenti, di trattare la sanità in maniera in termini ragioneristici, far quadrare i riconti, insomma non sono questi i principi per poter dare una corretta sanità o un'offerta sanitaria importante. Oggi la sanità in Molise è commissariata, quindi ci sono i commissari che hanno il mandato di amministrare, hanno un mandato ministeriale per cui fanno il loro dovere, però evidentemente si basano su situazioni, su numeri che spesso vanno contro gli interessi della collettività e questo che fa arrabbiare moltissimo. Quindi ci deve essere un'inversione di tendenza, un approccio diverso proprio al problema, non solo raggiungere determinati obiettivi, ma gli obiettivi devono considerare il cittadino, devono considerare la salvaguardia dei diritti dei nostri concittadini per la difesa della sanità. Questo deve essere un punto e solo questo può cambiare un'inversione di tendenza, far capire che i numeri per noi sono purtroppo sempre penalizzanti, abbiamo un territorio molto varso, eterogeneo, anche difficile orograficamente, per cui dobbiamo sforzarci di far capire queste cose e quindi cambiare un'inversione di tendenza. Il decreto Balduzzi è stato il primo atto che ci ha massacrato, ovviamente non ha massacrato, quando dico C parlo di Molise, di molisani e ovviamente con le repercussioni sui nostri ospedali.